Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova diretta su Elisabetta Barberio, History and Writer. Il libro di questa sera è Carcosa Svelata, appunti per una lettura esoterica della celeberrima serie True Detective. Aspettiamo che vi colleghiate, sto aspettando, sto aspettando anche l'autore, ecco che lo vedo già e aspetto che mi mandi l'invito, poi dopo lo faccio entrare e iniziamo a parlare di questo libro che mi è piaciuto, come potete vedere mi è piaciuto tantissimo. Marco, se non ti arriva la famosa domanda che ti dicevo, ti invito a entrare direttamente io, non c'è problema, intanto mostro di nuovo il libro e la bellissima copertina, perché poi all'interno ci sono anche, ve ne farò vedere qualcuna, delle illustrazioni. Allora, 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 vedo Emanuele, devo andare anche io in diretta, me la perdo, ma no dai, la puoi recuperare, sei perdonato, sei perdonato. Ok, ti invito io Marco, non ti preoccupare, guarda, allora, allora, ti vedo. Guarda, ti ho mandato l'invito proprio adesso, speriamo che vada tutto bene, ecco, vediamo, vedo tutto nero. Mi senti, no? Io ti sento, però non ti vedo. Però vedo tutto nero, aspetta. Eccolo. Eccolo. Eccoti, eccoti, adesso ti vedo. Benvenuto, benvenuto. Ciao, grazie, Sabetta, per l'invito. Grazie a tutti che stiamo seguendo. Guarda, grazie a te, adesso vedrai che si collegheranno anche più persone. Ti ringrazio tantissimo perché questo testo mi ha colpita tantissimo. Già prevedevo che mi sarebbe piaciuto nel momento stesso in cui l'ho trovato, insomma, ho visto che hai fatto una pubblicazione così interessante, ho detto, no, lo devo avere e devo leggerlo subito. Dopo poche pagine ho detto, chiedo a Marco se vuole venire a parlarne, anche perché il recentissimo successo della quarta stagione, insomma, merita anche quello un approfondimento. Vediamo se tiriamo fuori qualche contenuto. Ci sono delle persone che ti salutano. Allora, ci salutano. Salve a tutti, gente. Ciao, un maestro di orrore. Un nome che ha tutto un programma. Lo saluto anch'io. Marco, allora, prima di iniziare a parlare di questo testo molto interessante, ti chiedo se ci vuoi raccontare un po' quali sono i tuoi campi di studio, perché poi sono collegati chiaramente al testo che hai scritto. E di che cosa ti occupi, ecco? Volentieri. Dunque, io sono il fondatore di Axis Mundi, che è rivista online cartacea e casa editrice omonima di storia delle religioni. Antropologia del sacro, folklore, esoterismo, letteratura del fantastico. Quindi questo, lo dico già all'inizio, non è un saggio cinematografico, di critica cinematografica. Partendo da True Detective, io ne analizzo appunto, come dici il sottotitolo, gli aspetti più esoterici. E qui forse è il caso che anticipi subito quali sono le direttive che io tratto in questo libro. Perché è risaputo che Nick Pizzolatto, per scrivere la sceneggiatura, i dialoghi, soprattutto i monologhi di Rust Cole della prima stagione, si basò soprattutto su un saggio scritto da Thomas Ligotti, che è famoso più che altro, uno scrittore contemporaneo di letteratura weird, perturbante, dell'orrore, diciamo. Però questo saggio è la sua pubblicazione più nota, perché cita una serie di autori, soprattutto afferenti all'ambito della filosofia pessimista e pessimismo cosmico, quindi Choran, Schopenhauer, Zapfe, via dicendo. E da un'altra parte cita però anche autori di letteratura del fantastico e dell'orrore da cui lui prese a piene mani, come Lovecraft, come Macken, come Chambers, che appunto vedremo, è il creatore del Rain Giallo, oppure Ambrose Beers, che è colui che coniò il toponimo di Carcosa, che ricorre nella serie televisiva. E quindi questi sicuramente sono due temi su cui la prima stagione di True Detective si basa ampiamente, cioè il pessimismo cosmico connesso a un'idea di un tempo divoratore, di una trappola della vita che appunto emerge dal testo di Thomas Rigotti, e l'altro appunto questo elemento fantastico, horrorifico, legato anche a un ambiente ritualistico, della cosiddetta setta della palude. Tra l'altro è un nome ripreso dal notissimo racconto di Howard Philip Lovecraft, The Call of Tulu, il richiamo di Tulu, in cui appunto vi era questa setta della palude che compieva dei rituali abominevoli, diciamo così, richiamando antiche divinità. E nella serie tv infatti c'è questa setta della palude, adesso non vorrei spoilerare troppo perché ho visto che è meglio non farlo, come ho messo giù la diretta. Comunque la storia della prima stagione di True Detective si aggancia a questi omicidi rituali di questa misteriosa setta della palude che inizialmente viene creduta essere un gruppo limitato di persone e poi si scopre che invece ci sono dei piani alti che non verranno in realtà mai svelati nella serie. E quindi questo è un altro elemento, l'elemento ritualistico, l'elemento di delitti rituali, per cui la mia impressione è sempre, ci sono alcune impressioni che sono mie, di cui Pizzolatto non parla nelle interviste in maniera esplicita. La mia impressione è che lui si sia rifatto molto a quella ondata di notizie, di cronaca nera che negli anni ottanti soprattutto, a partire dagli anni ottanti in realtà, in America veniva nominata con questo nome di satanic ritual abuses, cioè abusi satanici rituali. È proprio quello che sembra di vedere nella serie tv nella prima stagione e anche qui poi ci sono altri collegamenti vari che magari tratteremo meglio con il Bohemian Groove e cose di questo genere. Sì, perché tu metti in campo diverse chiavi di lettura e diverse simbologie, diversi significati che rendono questa serie, allora già dal punto di vista dell'intrattenimento è già bella di per sé, ma poi con l'arricchimento che tu dai abbiamo più letture. Cioè questa serie non è più solo una serie televisiva, porta e veicola dei messaggi che adesso poi magari andremo a vedere. Quello che ti volevo chiedere, da cosa l'hai capito? Cioè qual è stato l'input che ti ha portato a scrivere questo libro? Cioè cos'è stato che ti ha colpito veramente? Che hai detto, no, qui c'è qualcosa di più oltre che una serie crime con delle bellissime interpretazioni. Dunque, io scrissi alcuni articoli a partire dal 2016, quindi a due anni dall'uscita della prima stagione, che pubblicai prima su un sito di Ragazzi della Sapienza di Roma e poi su Axis Mundi in versione rivisitata, aumentata. E dopo qualche anno, nel 2019, inizi a scrivere il libro vero e proprio. Quindi inizialmente io avevo concentrato la mia attenzione sulle influenze di Thomas Ligotti, appunto, in un articolo. E quindi la visione del mondo di Rust Cole alla luce della lettura della cospirazione contro la razza umana, questo saggio di Thomas Ligotti. E poi mi ero concentrato su alcuni simbolismi che appunto si riferiscono alla simbologia tradizionale della storia delle religioni, che io già stavo studiando per conto mio, perché appunto mi occupavo, mi occupo ancora oggi di una serie di articoli che va a analizzare gli antichi culti europei della fertilità e via dicendo. Quindi il simbolismo del cervo ovviamente si nota subito fin dalla prima scena, della prima puntata, dove viene, con qualche nozione la diamo senza spoilerare troppo, dove viene ritrovato da questi due detective che sono i protagonisti della storia, chi cadavere di questa prostituta Dora Lange, che appunto presenta delle caratteristiche di omicidio rituale molto nette, una corona fatta di corna di cervo, una spirale tatuata sulla schiena, una posizione incinocchiata di fronte a questa quercia che richiama vari rituali stregoneschi. In realtà poi, col passare delle puntate, questa simbologia ritualistica del folclore europeo si lega a una simbologia del Udu, cioè della versione magica del Vudu, che appunto afferente alla regione della Louisiana. Il Udu sarebbe appunto una versione più magica e più rituale del Vudu, che invece è la religione, come sappiamo, degli schiavi africani portati in America. Infatti viene menzionato il Mal di Grasso, più che altro si vedono questi manufatti, diciamo così, fatti di bastoncini di legno intersecati tra loro, che sono ovviamente cosa tipica del Udu, anche se poi in realtà, io ho analizzato la cosa, sono molto simili alle cosiddette strenae, che poi sono diventate le nostre strenne, con un significato molto più ampio, che venivano scambiati durante i Saturnali di Roma. E anche qui c'è tutto un discorso, che poi magari analizzeremo meglio, che il re in giallo, che tra l'altro nella serie tv è chiamato il re giallo e non il re in giallo, che sarebbe il nome vero che nasce dagli scritti di Chambers, comunque ha una simbologia molto vicina a quella di Saturno e altre divinità saturnine di varie tradizioni. E questo si collega in maniera molto netta a questo pessimismo cosmico fondato sulla visione del tempo divoratore, del tempo come cerchio piatto, quindi a tutti gli elementi più filosofici che si vanno a formare nella serie, soprattutto grazie ai monologhi di Rust Cole. E su questo infatti volevo subito sottolineare che sebbene io abbia diviso l'opera in tre macrocapitoli, il primo che tratta appunto dei fatti di cronaca a cui ho già accennato e alcuni simbolismi come anche quello di Childress come Green Man, come uomo verde, uomo selvatico, qualcuno che avrà visto la serie si ricorderà l'identikit di Childress che rascorre e riceve questa frase da un testimone sembrava che avesse delle foglie lungo tutto il viso, quindi la simbologia dell'uomo verde che si rifà all'uomo selvatico, che è proprio perfetto Childress come personaggio da questo punto di vista. Però quello che volevo sottolineare è che come questi tre macrocapitoli siano intimamente legati tra loro, nel senso che la filosofia del tempo divoratore che si ricollega ai culti saturnini, la simbologia del cadavere di Dora Lane, del cervo degli omicidi rituali, la spirale stessa e poi ovviamente tutta la filosofia pessimistica riguardante il tempo divoratore, sono strettamente interconnessi tra loro e addirittura si ritrovano in maniera molto netta in quei racconti fantastici di fine ottocento che io cito nella seconda parte del libro di Ambrose Beers, di Robert Chambers, in cui appunto viene coniato per la prima volta il termine carcosa del re in giallo e questa maledizione che il re in giallo in qualche modo trasmette ad alcune persone che ne entrano in contatto volenti o nolenti. Sì, ma infatti è questo aspetto molto interessante perché tu elenchi e scrivi tutta la letteratura che cita sia carcosa che il re in giallo e a parte che non sapevo, alcune citazioni proprio sono inaspettate perché poi c'è anche Oscar Wilde con il ritratto di Dorian Gray, cioè ci sono delle cose che proprio non mi aspettavo. Sembra quasi che questi autori volessero davvero trasmettere un immaginario e una serie di significati molto, dire, come se ci fosse davvero un altrove, come se ci fosse davvero carcosa, come se ci fosse davvero il re in giallo. Ho sentito queste tue citazioni, perché poi trascrivi alcuni brani presi proprio dai testi, come se loro volessero raccontarci davvero di queste, cioè che non fosse un'opera di fantasia. Io ho sentito queste citazioni molto concrete. Dove nasce questo immaginario di Carcosa e del re in giallo? E perché ce la ritroviamo nella contemporaneità? Perché pare, a meno che tu non abbia fatto altre ricerche e non ci sia stato qualcos'altro nel mentre, si fa un salto temporale tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento e adesso abbastanza notevole. Sì, è un'ottima osservazione perché effettivamente, come io scrivo nella parte dedicata al re in giallo di Carcosa, sembra che sia esistito una specie di filo giallo, io lo nomino così, che connette appunto questi racconti, questi autori di letteratura fantastica di fine Ottocento a tutto quel discorso poi da una parte appunto filosofico, pessimista riguardante il tempo, però dall'altra anche agli satanic ritual abuses, quindi l'idea che esista una setta di persone altolocate che porta avanti da molto tempo, sicuramente da decenni, forse addirittura da secoli, questo, insomma, i rituali di questa setta. Questo è molto interessante perché io faccio vari collegamenti. I due autori che parlano per primi di Carcosa e del re in giallo sono, come detto, Ambrose Bierce, innanzitutto nel 1885, nel racconto Un abitante di Carcosa, dove non viene nominato il re in giallo, però è molto particolare questo racconto perché ha degli elementi che ricorda quel viaggio finale che fa Rust Call nell'ultimo episodio in cui, giunto nella tana, diciamo così, della setta della Paludio, comunque di un suo membro, vede sopra questo fantoccio, statua, diciamo così, del re in giallo, vede aprirsi questa spirale galattica e poi quando va in coma colpito da questo membro della setta della Palude, giunge appunto a quest'altro mondo. Il racconto di Ambrose Bierce effettivamente inizia in media stress perché il protagonista subito dice che si sente come un'anima disincarnata, non sente il suo corpo e si trova su questo pianeta che non capisce se è la Terra o meno, gli sembra un pianeta completamente alieno, vede degli elementi che gli fanno capire che è arrivato all'origine del tempo, quindi c'è tutto questo discorso del tempo abissale connesso con il cosmo e poi ci sono delle menzioni sia delle pietre megalitiche che fungevano probabilmente da rituali che vengono nominate anche nella serie True Detective, ma ci sono anche dei rimandi stellari proprio, si parla di alcune costellazioni come le Iadi nella Costellazione del Toro, questi gruppi conglomerati di stelle nella Costellazione del Toro, si parla di Antares soprattutto, sono dei rimandi astrologici, cosmologici che poi ritroviamo anche nei racconti di Chambers che sicuramente aveva letto un abitante di Carcosa e l'ha usato come spunto per la creazione di questa setta che segue il re in giallo nei suoi racconti. Il re in giallo di Chambers è un personaggio molto misterioso che si sviluppa in una serie di racconti fondato sul ritrovamento da parte di vari personaggi di un pseudo-biblium, cioè un libro che non esiste che però appunto viene creato dall'autore come suggestione per narrare di questi orrori. Come tu hai già sottolineato, l'idea viene ripresa da un libro giallo che citò Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray e quindi anche qui vediamo che il filo giallo si dipana attraverso autori anche più famosi di quelli di Ambrose Bierce e Chambers. Si pensa che Oscar Wilde riprese l'idea di questo libro giallo da Wisman a Reburi in particolare, quel libro controcorrente, tradotto in interno come controcorrente o a ritroso, in cui si parla di questo dandy che ha superato la visione romantica del mondo e ha un atteggiamento molto simile a Rascol, insomma, si chiude nella sua casa come se fosse un luogo di ritiro quasi spirituale, però anche di luciferino volendo, questo è una cosa che ritorna anche a Rascol che ha due lati, uno scuro e uno invece luminoso che tra l'altro molti fanno tale, secondo me è vero, come Childress appaia come una versione in controluce di Rascol, degli elementi che lo connettono in qualche modo. E poi ovviamente nei racconti di Chambers il leggere questo libro giallo conduce alla pazzia perché improvvisamente questi personaggi si trovano in questo altro mondo di Carcosa o comunque hanno dei ricordi molto vaghi di questo mondo che è esistito probabilmente nell'abisso dei tempi e incontrano questo re giallo, re in giallo anzi, che è considerato una specie di divinità che attende in questo mondo extra galattico il suo risveglio e quindi l'assetta della palude in True Detective compie questi rituali probabilmente per accelerare la sua venuta come accadeva nei racconti di Lovecraft con i grandi antichi. Sì, sì. Aspetta che recupero che c'è qualche commento. Aspetta, aspetta. Allora, allora. Anche prima, quando parlavamo del voodoo, anche il pastore afroamericano fa riferimento alla santeria. Sì? Sì, un po' impropriamente in realtà perché la santeria si sviluppa a Cuba e noi qui ci troviamo in Louisiana, quindi sarebbe stato più corretto parlare di voodoo, però effettivamente sono tutte delle discipline magiche molto simili, la santeria, il voodoo e il voodoo, perché ovviamente nascono, si formano dagli elementi più oscuri, più magici delle religioni importate dagli schiavi africani in America e si fondono però solo superficialmente, hanno una patina diciamo così, che si collega con il cristianesimo probabilmente per tenere nascosti gli elementi o impliciti, quantomeno, gli elementi più oscuri di questi culti. Certo. E un maestrom di orrore dice L'uomo verde mi ricorda alcuni concetti presenti nel pezzo dedicato al Cavaliere verde su Axis Mundi. Sì, l'autore tra l'altro di questo testo, no qua è il mare che era Dane Valentini, però sull'uomo verde ha scritto un altro articolo su Axis Mundi, Obsidian Mirror, che saluto perché è stata anche una delle mie fonti, è un blog che si chiama Obsidian Mirror, che è stato famoso qualche anno fa perché ha trattato alcuni elementi del ciclo del Rain Giallo tra Chambers, Ambrose Beers e l'ho citato nel libro, lo conosco di persona, ha fatto delle belle ricerche che mi hanno aiutato poi a vedere, soprattutto nell'ambito della letteratura fantastica, dei collegamenti con la storia delle religioni, la ritualistica. Insomma, come ho già cercato di dire, sembra quasi che questi racconti di fine ottocento non siano nati dal nulla, ci sia stata una visione quasi teosofica, io nel libro parlo anche di Madame Blavatsky perché è ben risaputo che Ambrose Beers conoscesse Madame Blavatsky e sicuramente anche Lovecraft la conosceva, alcuni dicono pure Chambers, ovviamente ne conoscevano i testi, qualcuno dice che Ambrose Beers la conosceva anche di persona, però non ci sono certezze sull'argomento. Ora, quello che è importante della teosofia di Madame Blavatsky, alla fine di comprendere il re in giallo, è che noi ora diamo per scontato nella nostra epoca la conoscenza del fatto, o comunque la credenza del fatto che l'universo abbia miliardi di anni, che la terra ne abbia milioni, dobbiamo invece medesimarci nella mente degli uomini di quel tempo, nell'ottocento ancora non c'era questa visione cosmica del tempo abissale, di queste ere che duravano milioni di anni che succedevano tra loro, cosa che invece ha detto la Blavatsky tra i primi, la Blavatsky che era un esoterista che affermava di essere ispirata da questi maestri ascesi superiori sconosciuti, che sono molto simili ai grandi antichi di Lovecraft, tra cui c'è appunto tale Astur che è il re in giallo di Chambers, è lo stesso personaggio. Comunque la Blavatsky parlò di questi cicli temporali, cosmici, dalla durata di milioni di anni. Al tempo invece non dobbiamo dimenticarci che l'uomo medio, anche quello istruito, si basava sulla teoria biblica, cioè che la terra avesse 5.000 anni, poco più. Quindi questa è stata, secondo me, a livello filosofico è stata una grossa scossa mentale per l'uomo di fine Ottocento, perché già ovviamente bisogna menzionare la morte di Dio secondo Nietzsche, quindi questi elementi prettamente filosofici, però anche questa scoperta che poi diventa anche scientifica dopo la Blavatsky del tempo abissale, cioè del fatto che il cosmo abbia miliardi di anni e la terra altrettanto, ha portato comunque alcuni filosofi, soprattutto ma in generale io direi l'umanità, quantomeno quello occidentale, a mettere in discussione una sua visione del mondo positivista, antropocentrica. Questo è proprio quello che sembra succedere a Rascoli innanzitutto, però anche ad altri personaggi, anche il collega Marty Hart sente il tempo come una forza che in qualche modo lo mette a nudo, ne mette a nudo i suoi lati peggiori, i suoi lati più bambineschi, non gli consente di stringere a lui quello che vorrebbe e quindi sì, il tempo assolutamente su tutti i personaggi è come un marchio, questo marchio del Rai Giallo che in realtà non riguarda per me solo i membri della sette della Palude, ma proprio i singoli personaggi. Questo è un altro discorso che io faccio, ci può essere questa setta che adora questa divinità connessa al tempo divoratore, ma in realtà quello che si comprende è che questo tempo divoratore governa su tutti, non solo sui seguaci e quindi anche lo stesso Rascol che viene definito un agnostico, insomma in termini antireligiosi, io verso la fine del libro, in uno degli ultimi capitoli, sottolineo come alla fine lui sia il personaggio che presenta in realtà più degli altri delle caratteristiche sciamaniche, per così dire, iniziatiche quantomeno, a differenza del collega Marty Hart e tra l'altro questo è stato anche notato da pizzolato in un'intervista, anche questo ha a che vedere con quello che dicevo prima, che nel personaggio di Rust così complesso convivono da una parte dell'elemento razionalistico, pessimistico, però dall'altro c'è un anelito iniziatico, molto religioso, per esempio la sua casa che è completamente vuota di mobili, tranne questo crocifisso appeso al muro, oppure in una scena si vedono le Upanishad, un'edizione delle Upanishad sul suo comodino e ovviamente le Upanishad sono uno dei testi sacri induisti più noti, in cui uno dei concetti principali è quello del velo di Maya, cioè il che è già citato ovviamente da Schopenhauer al Danice, il che vuol dire che dietro alla quotidianità al mondo che noi viviamo tutti i giorni c'è una realtà nascosta, occulta, abissale, spaventosa e questa realtà si connette a Carcosa. Carcosa non è solo il luogo della sette della palude di Childress, ma c'è una Carcosa terrena in cui si svolgono i rituali, o anche più di una, e poi c'è una Carcosa appunto che è la vera Carcosa, quella di cui parlano Ambrose Bierce e Robert Chambers, che sarebbe questo luogo extragalattico in cui il re in giallo è in questo stato di sonno, attendendo il ricongiungimento di queste costellazioni strane, le stelle nere di Carcosa. Il discorso qua che potrebbe andare avanti molto complesso, le stelle nere sarebbero, nelle tradizioni religiose, sia antiche, pagane, ma anche il de garde de bingen, ne parla in maniera secondo me straordinaria, nel cristianesimo le stelle nere vengono collegate agli angeli caduti, che cadendo dalla potestà celeste, divina, si bruciano e si anneriscono, non danno più luce. Quindi queste stelle nere sarebbero questi angeli caduti o i titani dell'antichità e il re in giallo sarebbe il loro capo, quindi Satana o Saturno, Crono, ancora, il tempo, la caduta, la caduta nel tempo, Soran, tutti i richiami poi all'opera di Thomas Digotti. Certo, certo. Anche il colore giallo io lo trovo interessante, adesso non lo analizzi nello specifico, però anche questo è un richiamo che non è sicuramente lasciato al caso. Come non è lasciato al caso tutto questo palinsesso, tutta questa struttura che Pizzolatto realizza per la serie e anche il territorio della Louisiana non è una scelta casuale. Al di là di questi fatti di cronaca che vorrei un attimo tornarci sopra, io ritengo che visto le varie contaminazioni che quel territorio ha avuto, ci è già accennato, c'è proprio un insieme, un sincretismo di più, come possiamo dire, più movimenti magici, cioè più tipi di esoterismo, di divinazione, che confluiscono in quel territorio e che poi portano a quello che vediamo nella serie. È ancora così secondo te in Louisiana? Cioè c'è ancora questo senso del magico? Beh, io direi di sì. Nelle zone soprattutto rurali in Louisiana, ma non solo in Louisiana, ma in varie zone d'America, tipo gli appalaci, ci sono delle tradizioni magiche scozzesi, irlandesi, in altre parti, non so, nel New Mexico ce ne sono di latine, messicane. Non è una cosa che riguarda semplicemente la componente afroamericana e questo è anche il bello della serie, perché questi elementi del Udu in realtà non si svolgono in una setta di derivazione Udu, si svolgono in una setta, senza spoilerare troppo, che in realtà se si va come fare a scuola a studiare i piani alti, si trovano delle scuole evangeliche, dei personaggi molto influenti a livello governativo, politico, religioso della regione Louisiana, appunto. Quindi persone apparentemente cristiane, apparentemente, o cristiane comunque, lì sono evangelici, non sono cattolici, però comunque c'è questo evangelismo americano che ovviamente lì in America e soprattutto in alcune regioni ha proprio dei caratteri molto più magici, con delle guarigioni, con questi sermoni, non c'è una scena con il pubblico che è questo tra l'altro un argomento che qua anche in Italia di recente è salito agli onori della cronaca, come sicuramente saprai per quel famoso fatto di Palermo, mi sembra, provincia di Palermo. Quindi sì, non c'è tanto, a parte Rascol che fa questa critica alla religione, però in realtà si vede come la vita di queste comunità, ma anche la vita nell'ombra di questi membri elevati di queste comunità evangeliche, siano in realtà intrisi di una visione magica che può essere definita, queste però sono solo delle definizioni, può essere definita satanica, demoniaca, ma quello che è importante sottolineare è che ci sia una visione pagana proprio, che al di là della patina evangelica o cristiana si trova scavando sotto, questo è evidente. E poi ci sono vari rimandi appunto che si collegano a questo discorso, non solo a riti sacrificali che si svolgerebbero in questi boschi nel sud degli Stati Uniti, un rimando al Bohemian Grove come ho già anticipato, questo è veramente un argomento interessante perché il Bohemian Grove è… Spiegaci, prego, io lo conoscevo già perché mi ero già informata, cioè è un argomento che mi interessa molto, ma raccontaci un po' del Bohemian Grove, se volete cercarlo potete scrivere Bohemian Grove, ma se scrivete anche il boschetto Bohemo, insomma vi vengono fuori una serie di informazioni. Soprattutto io consiglio di cercare le foto del Bohemian Grove, le prime che abbiamo, quelle di fine ottocento, inizio novecento, tra l'altro l'epoca è sempre quella, è l'epoca in cui Chambers e Ambrose Beers scrissero quei racconti, quindi questo è già importante. Comunque in due parole, il Bohemian Grove è un bosco di sequoia antichissimo che c'è nella California, che è salito agli onori della cronaca per un documentario che ha fatto tale Alex Jones che si è introfolato in qualche modo e ha filmato questo rituale della cremazione e della preoccupazione, questo fantoccio che viene bruciato in maniera sacrificale. Ora, al tempo quando uscì questo filmato molti lo presero come una finzione, una follia, qualcosa di molto cospirazionista, però poi invece la gente iniziò a cercare su questo Bohemian Grove e si scoprì che esisteva già dal 1880 quantomeno e dal 1900 qualcosa, mi diceva che è stato un po' di più, è stato un po' di più, è stato un po' di più, è stato acquistato da un gruppo molto potente di politici, di finanzieri, di economisti che lo trasformarono in questo luogo di raduno estivo in cui appunto staccarsi da tutto il resto del mondo e compiere questi riti segreti che non si capisce in realtà, secondo la letteratura ufficiale, quanto siano una pantomima o quanto siano invece reali, con dei sacrifici veri e propri, ci sono dei collegamenti con Ice White Chat di Kubrick ovviamente, quando parliamo di questo tema, però la cosa importante è che tale Bohemian Grove non è stato scelto a caso, perché era già sacro per gli indiani d'America che lo abitavano, lo chiamavano la strada degli spiriti, perché loro compivano in questo bosco i rituali per collegarsi all'altro mondo, al mondo dei morti, degli spiriti, dei demoni, si direbbe in senso cristiano, anche se è un termine ovviamente che lascia il tempo che trova in una visione del mondo pagana, però quello che è importante è che l'hanno scelto perché era un luogo carico di energie, se vogliamo anche nere, perché è proprio connesso con la distruzione, con la morte e quindi anche qua ci si riconnette a dei rituali che avvengono veramente nella realtà, che appunto non si sa quanto siano pantomime o quanto siano veramente rituali di sangue, ma poi si ricollega anche a un altro tema rituale, che è quello orrendo purtroppo, bisogna dirlo chiaramente, dell'abuso infantile, della pedofilia, che è un altro tema che fino a qualche anno fa veniva considerato un tema assolutamente cospirazionistico, però i recenti fatti di cronaca che riguardano Epstein, Jeffrey Epstein e tutto l'establishment hollywoodiano americano e anche ovviamente di altri paesi hanno aperto questo vaso di Pandora e sembra si ricollegano in maniera molto netta a quanto Pizzolatto cerca di dire tra le righe in True Detective, perché lui sta molto attento a mettere questi indizi nelle varie puntate senza però parlare in maniera troppo esplicita. Sicuramente l'avrei notato anche te, anche nella seconda e terza stagione si parla di questi abusi di natura pedofila con delle sostanze tipo LSD metanfetamina che troviamo già nelle prime due stagioni, oppure di feste appunto con prostituzione anche minorile come nella seconda stagione che richiamano l'ice wide shot di Kubrick. Addirittura nella terza stagione si mostrano dei documenti dell'FBI in cui la famosa spirale a triangolo che già appare nella prima stagione come tatuaggio, come marchio della set della palude, si trova pure nei documenti veri e propri dell'FBI che indaga su queste cose. La cosa curiosa però è che questi documenti sono usciti dopo la prima stagione, il che significa, io penso, che Pizzolatto già avesse qualche aggancio nell'FBI, nell'NSA, nella CIA, che gli ha in qualche modo indicato alcuni simboli che poteva utilizzare per passare tra le righe certi messaggi. Può sembrare un'ipotesi un po' zaldata, ma ricordo che anche Chris Carter, il creatore di X-Files, fortunatissima serie tv degli anni 90, fu molto esplicito in determinate interviste dicendo che molta della mitologia di X-Files nasce da certi suoi contatti con l'FBI, con la CIA, con alcuni membri di queste organizzazioni che sotto banco gli diedero informazioni su complotti governativi da cui lui poi prese spunto per la serie. Sì, sì. In realtà, insomma, penso che sia stato abbastanza sdoganato il rapporto, il sodalizio che si incontra in certi periodi storici o comunque in alcune situazioni tra cinema, letteratura e servizi segreti, organizzazioni governative. Esistono tanti casi anche reclutamenti da parte di queste organizzazioni nel mondo dello spettacolo per poi appunto fare da spia o influenzare certi, no, il pubblico o certi settori. Recupero, c'è un commento e una domanda, aspetta che vado a recuperarli. Allora, il commento, leggerò sicuramente male il nome di questa persona, scusami. Vabbè, comunque, 5M, Doc. Il dualismo di Rust, in questo senso, mi rimanda a quello di Lovecraft come medium inconsapevole proposto in un'altra live dal signor Maculotti. Assolutamente, assolutamente. Ecco, visto che ha citato che anche io provo questa teoria, la dico brevemente. Lovecraft è stato un personaggio pazzesco non solo a livello letterario, ma anche a livello biografico. E c'è tutto un acquestio enorme sull'ipotesi che fosse veramente entrato in contatto con determinati ambienti esoterici, teosofici, magici proprio. E ce ne sono alcuni che, alcuni autori sostengono che questo sia avvenuto. Altri invece dicono no, è impossibile perché lui era un razionalista, come tra l'altro sembra essere Raskol. Leggendo le lettere di Lovecraft, effettivamente, lui ha una visione, diciamo così, che esplicita i suoi corrispondenti o il pubblico estremamente materialistica e meccanicistica dell'universo. Tuttavia, e tuttavia questo è il punto importante, lui fin da bambino ebbe delle esperienze altre, diciamo, liminali. Per esempio lui nel sonno ogni notte da bambino, ma questo ogni notte proprio tipo dai 4 agli 11 anni, se non ricordo male, come lui racconta nelle sue lettere, veniva preso da questi demoni e portato in mondi cosmici a vivere le esperienze molto, anche qui sciamaniche, lo smembramento rituale, lo smembramento iniziatico. E poi ebbe una serie di sogni molto vividi di questi mondi extragalattici, cosmici, che si ricollegano poi alla carcosa di Ambrose Beers. Non è un caso se lui, i suoi autori preferiti di quel tipo di letteratura, in realtà sono Ambrose Beers, Chambers, Maken, tutta gente che è stata inserita o una era Golden Dawn, in altri ambienti o teosofici o iniziatici, esoterici, occultistici. Però sì, la mia ipotesi è che lui fosse un medium inconsapevole. Cioè lui, anche se è cresciuto in una famiglia ovviamente di impostazione puritana, quindi quel cristianesimo che proprio, insomma, non ha nulla a che fare con queste realtà iniziatiche pagane, ma lui fin da bambino ebbe queste esperienze, secondo me, sviluppò la sua letteratura, il rapporto con questo suo mondo onirico, inteso per onirico non solo che questo mondo lo visitava durante i sogni, ma proprio secondo me lui si creò una specie di, o si creò comunque, arrivò al fatto, come dice Maken nel grande Diopan, che sotto la coltre superficiale del mondo che noi possiamo vedere e giudicare con gli strumenti della scienza, c'è un altro mondo che sarebbe meglio non indagare. Questo è proprio l'incipit di Call of Tulu. La più grande misericordia per l'essere umano è che non è in grado di mettere tutti i tasselli, di unire tutti i tasselli, perché se per disgrazia li unisse scoprirebbe che, cosa che è meglio non scoprire assolutamente. E Rust Call in questo senso è molto simile a Lovecraft, perché lui durante, si racconta nella serie, che durante la carriera nell'FBI, anzi soprattutto nella DIA, cioè nella DEA, che ha lavorato appunto come agente sotto copertura nell'antidroga praticamente, la DIA, e ha fatto esperienze con sostanze di tutti i tipi che l'hanno portato a vedere, dalle sue parole, la realtà segreta delle cose. Quindi lui ha avuto una specie di risveglio iniziatico causato da questo abuso di sostanze che prendeva per lavoro, in realtà, che però l'hanno portato ad avere un duplice lato, quello di razionalista, pessimista, meccanicista, da una parte, però sotto lui è convinto che ci sia una realtà segreta dell'universo, che lui capisce esistere in alcune visioni che ha. Queste visioni, tra l'altro, sono sempre connesse alla spirale, quindi vediamo che la spirale non è solo il simbolo della setta nel senso stretto, è proprio questo simbolo del tempo divoratore ciclico che attraverso i cicli cosmici divora tutte le individualità umane, insomma, e il re in giallo sarebbe questa fonte di distruzione attraverso i cicli cosmici. Trovo che questo sia un argomento centrale che pochi, forse nessuno, ha messo in risalto. Se noi pensiamo a queste visioni che ha Rascolo, lui vede lo stormo d'uccelli che diventa una spirale, poi ha questa spirale galattica quando entra nell'ambiente di Chambers e poi dopo questa esperienza, appunto, quando va in coma, accede a questo altro mondo che è secondo me la carcosa di cui si parla. Però la cosa curiosa è che mentre altri personaggi accedendo a questa carcosa impazziscono totalmente al contatto con questa realtà abissale galattica, e Rust invece no. Rust dice che sotto l'oscurità normale ce n'era una più profonda, che noi normalmente non vediamo, però io in quel posto, in quel momento, ho perso tutta la mia individualità e tutto quello che c'era era amore. E sentire questa parola detta da Rascol in una delle ultime scene della stagione fa veramente impressione, perché Rascol non parla mai di amore in otto puntate, anche quando parla della sua ex moglie o quando si frequenta con altre che le presenta il collega Marty Hart, non parla mai di amore, ne parla solo in quest'ultima scena. E questo, tra l'altro, è un richiamo anche a Ligotti, perché Ligotti nella sua cospirazione contro la razza umana, che è assolutamente un testo pessimistico, nichiliste e tutto quanto, però ci sono alcune pagine in cui parla di come l'unica liberazione per l'individuo, per l'essere umano, può avvenire solo in quei momenti in cui si abbandona completamente, rinuncia al proprio ego, alla propria maschera e si abbandona in questa oscurità, sotto l'oscurità che noi vediamo. Thomas Ligotti cita delle testimonianze di persone che hanno avuto delle esperienze di premorte, per esempio, in cui si dicono le stesse identiche cose che dice Raskol, cioè l'individuo giunge in questo mondo uterino di tenebre, in cui però lui non sente il corpo, come tra l'altro l'abitante di Carcosa di Ambrose Beers, non sente più il suo ego, non c'è più oggetto e soggetto e in qualche modo tutte le dicotomie fasulle, superficiali e della vita quotidiana che appunto l'essere umano in realtà crea lui stesso in base alla sua personalità, la sua mente conscia, ecco si annullano tutte e in quell'annullamento totale vi è in realtà il segreto, secondo me, di questa Carcosa. Carcosa come origine del tempo e il rain giallo come guardiano della soglia. Questo è molto interessante secondo me la sottolineare. Sono d'accordo, sono d'accordo. Io ho trovato, trovo interessante questa tua interpretazione perché potremmo dire così che per l'individuo, la persona che non riesce a cogliere queste simbologie, questi aspetti, tutto questo è paralizzante, terrorizza, è un abisso che non... è un abisso di cui avere paura. Mentre per una persona diciamo così più illuminata che può in modo intuitivo o perché ha fatto ricerche, ha un intelletto, ha una cultura in questo campo, cogliere questi aspetti lo porta poi alla visione che arrasta alla fine. Potremmo dire così? Potrebbe essere? Sì, potrebbe. Secondo me è anche il fatto che dicevamo prima, che la visione di Rascoli in realtà è estremamente simile alla visione di alcuni santi, di alcuni rinuncianti, per esempio nel mondo asiatico, hinduistico, buddista. Cioè il rinunciante è quello veramente illuminato, non è tanto il religioso, il sacerdote, è proprio colui che rinuncia alla vita in società e lui lo fa in realtà, la scuola lo fa in una maniera molto particolare, rinuncia ad avere rapporti affettivi, a crearsi una vita diciamo così normale, però ha questa missione di... appunto lavorando per i governativi, ha questa missione di risolvere questo caso della sette della palude perché lui vede in alcuni elementi simbolici delle cose che lui aveva già capito, tutti i suoi ragionamenti sul tempo divoratore, sulla trappola della vita e questo secondo me è un altro punto da mettere in risalto, come se da una parte i membri della sette della palude adorano questa entità, il re in giallo, dal punto di vista sì distruttivo ma distruttivo degli altri per ottenere potere, uccidono vittime sacrificali, compiono riti di tipo pedofilo e invece la Skoll perché vive questa esperienza e arriva a Carcosa trovando la pace dei sensi e l'amore? Perché lui in realtà è vero, continua a rimuginare su questo aspetto distruttivo del cosmo, del mondo, che sembra una lettura atea e meccanicistica, ma però quando arriva là in quel posto, proprio perché ormai è privo di ogni illusione di tipo religioso, vive l'esperienza nella maniera più sacrale possibile, cioè senza un dio da adorare, senza gente da sacrificare, beh è lui il sacrificio, è la Skoll che si è già sacrificato se stesso a se stesso, si potrebbe dire all'audino, si è sacrificato a una qualcosa, a una sua visione più elevata che riesce a trovare proprio nel momento culminante, quando appunto va in coma in seguito al combattimento dell'ultima puntata e accede a questo altro mondo. E invece di contro, Marty che per tutta la stagione invece lo criticava per il suo essere troppo pessimista, troppo schietto, parlare di certi argomenti, dicendo no, guarda che qui siamo tutti religiosi, eccetera, si va a vedere che in realtà è lui che non è per niente religioso e non ha una visione sacrae della vita, nemmeno del matrimonio per dire, nemmeno del, non so, del rispetto delle vittime o in alcuni casi, non so, allunga dei soldi a una ragazzina, non so se ti ricordi la scena che si prostituisce, quando gli vieni fuori fuori dell'altro ricevendo anche la critica di la Skoll, quasi come se lui volesse far vedere a tutti com'è buono, com'è bravo, com'è un rinunciante in tutti i sensi, cosa che Marty Hart non ha. E c'è questa frase che gli dice, mi sembra Rust proprio, c'è una scena che gli dice tu i problemi ce li hai con la tua faccia, non con la mia, con il tuo volto. E qui ritorna il tema del volto, della maschera, la maschera che nasconde qualcosa che ci sta sotto, che è un tema tipicamente ligottiano. Ligotti lo riprese da Ernest Theodor Albert Hoffman, noto scrittore tedesco dell'Ottocento, famoso per l'uomo della sabbia, per esempio, per i notturni. Hoffman, per me è uno scrittore uno dei miei preferiti, un grandissimo, impostò tutta la sua poetica sull'idea che l'essere umano può essere visto in ultima analisi come una maschera o come una marionetta o come un automa, come appunto nell'uomo della sabbia. E questa visione venne ripresa da Freud e da Jens precedentemente, in realtà, parlando dal perturbante, che poi è quello che regge sia il libro di Ligotti sia True Detective. Cioè l'essere umano, in realtà, può essere visto come una marionetta o come un burattino perché, come dice Rust con i suoi monologhi, crede di avere un libero arbitrio, crede che le scelte siano veramente sue, ma invece vediamo, analizzando la storia dei personaggi, per esempio quella di Marty, che tradisce la moglie con una più giovane, dopo si ritornano insieme e dopo anni la ritradisce con un'altra che gli ricorda sempre la moglie da giovane. Praticamente i personaggi ritornano sempre a compiere gli stessi errori o gli stessi sbagli nella vita, che sono, che è come proprio se agissero, se fossero agiti, anzi scusami, non se agissero, se fossero agiti da una entità più in alto, che questa entità si può essere vista come il re in giallo, però in realtà il re in giallo è simbolo del tempo che divora se stesso e che ritorna sempre allo stesso punto, come McCartt sulla pista, dice a un certo punto Rust Call. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. C'è una domanda, aspetta, è una domanda interessante, vediamo se riusciamo a rispondere. Allora, lo dice, ce la pone, ripeto Marco, e buonasera ad entrambi. In Italia esistono, secondo voi, zone assimilabili alla Louisiana, forte presenza religiosa con tendenze di sette e simili? Allora, ci sto pensando, secondo me è un livello non di sette pagane, però qualche secolo fa, anche all'inizio del Novecento, la Puglia era famosa per una presenza più vasta che in altre zone di guaritori di paese e di guaritrici, soprattutto in realtà di paese, che avevano anche delle connotazioni oscure certe volte, cioè venivano quasi considerate come le streghe medievali, quindi mi viene in mente sì più il Sud Italia, il Meridione, tutte quelle usanze del folklore che si sono mantenute fino all'inizio del Novecento, alla metà del Novecento, anche qui sotto una patina cattolica in questo caso, però indubbiamente con dei rimandi pagani a un'antichità molto arcaica, secondo me. Non si tratta ovviamente di riti come quelli della sette della palude di True Detective, ovviamente. Diciamo che quel tipo di sette che c'è dentro il Detective e la rete che poi si viene a scoprire che è una rete enorme, elitiaria, insomma con implicazioni davvero grandi, mi viene più da collocarla, cioè probabilmente esiste nella contemporaneità, esiste ma esiste in Europa, cioè nel senso se mai farei un discorso più ampio dove la ritualità è più un espediente per commettere crimini, ecco mi verrebbe da dire. Sì, ecco, come hai detto bene, secondo me però questa gente non opera in zone geografiche ben precise, connesse da alcune tradizioni sacre, opera semplicemente tra le proprie mura ovviamente senza dare nell'occhio perché non potrebbe ovviamente svolgere certi… Però per esempio in Europa, tu citavi d'Europa, quando c'è stato il caso un paio di decenni fa, se non ricordo mai, di Dutro, forse te lo ricorderai, era un belga che rapiva le ragazzine, li teneva nello scantinato e poi o sparivano o l'uccideva, ecco era venuto fuori una questione che poi hanno messo a tacere chiaramente, ovvero che nella agenda di tale Dutro hanno trovato nomi di persone molto 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 altolocate nella nobiltà europea, addirittura regnanti di Olanda, Belgio, questo è tutto agli atti, è vero, che non mi sto ripacendo a teorie complottistiche, eccetera, e questo è interessante perché effettivamente in True Detective noi vediamo esattamente questo, cioè gente molto altolocata che si, diciamo così, si procura le vittime dei rituali occulti tramite o scuole residenziali o comunque ambienti, diciamo così, che potrebbero sembrare sicuri, però dietro c'è tutto questo mondo infernale che ha a che fare con culti pagani, sacrifici umani, boschi antichissimi, megaliti nel bosco, quindi sicuramente ci sono dei rimandi alla cronaca nera, io sinceramente non so quanto Nick Pizzolatto sapesse di questi temi, però sicuramente dei rimandi a Boemian Grove, al satanic ritual abuse degli anni Ottanta ci sono, la mia impressione è che lui abbia letto The Ultimate Evil, un libro storico degli anni Ottanta di Maurice Terry, che era un investigatore privato che partendo dallo studio del caso del figlio di Sam, del son of Sam di New York, caso molto simile al mosso di Firenze, tra l'altro da parentesi, scoprì che dietro a questi omicidi rituali vi erano delle eminenze grigie, diciamo così, e varie sette, e lui aveva connesso tutte queste sette, tra cui la chiesa del processo, il gruppo di Charles Manson, le aveva collegate una rete più alta, da cui tutte queste dipendevano, e tra l'altro, questo è un altro tema importante che in True Detective viene detto tra le righe, i membri e soprattutto i capi, i guru di queste sette, che derivavano da questo potere sconosciuto, sopra queste sette, erano state vittime di lavaggio del cervello, di quello che viene chiamato operazione MK Ultra, operazione Monarch, e dietro il successo Charles Manson e altri personaggi che hanno fondato queste sette, il reverendo Jones, ma addirittura anche personaggi come Ted Kaczynski, una bomber, un genio dal punto di vista del quoziente intellettivo e degli scritti che ci ha lasciato, che secondo me, proprio perché aveva subito queste operazioni di MK Ultra in giovane età, anche qua c'è stata una frammentazione della sua personalità, come può accadere anche allo stesso Rust Goal nella serie, e questo l'ha portato proprio a impazzire in un certo senso, pur rimanendo estremamente lucido nei momenti in cui scriveva, però poi ha sviluppato quell'altra personalità distruttiva, che inviava le bombe ad estremanca, e quindi sì, questo processo di lavaggio del cervello e formazioni di sette, anche qui sette fondate innanzitutto sulla figura di un guru, su una ritualistica e sull'utilizzo di droghe tipo l'LSD, la metanfetamina, le ritroviamo in tutta America soprattutto, ma soprattutto anche nei paesi anglofoni, in Australia, i bambini di Dio, tra l'altro si chiamavano così, una setta folle, ma ce ne sono veramente tante, e nel libro non cito questa cosa, perché è un autore che ho scoperto di recente, c'è tale David McGowan, o Dave McGowan, come si firma a volte nei libri, che partendo da Ultimate Evil di Mori Terry ha indagato il periodo della controcultura hippie, quindi quei gruppi da cui è nata la controcultura hippie californiani, anche qui, quindi vicino tra l'altro a Bohemian Grove, e collegati a Hollywood. Lui analizza alcuni luoghi come i Tesburi, il Laurel Canyon, che sono i luoghi dove la controcultura hippie è nata, e dimostra con centinaia, migliaia di prove, tutti gli agganci che c'erano dietro alla creazione di questo mondo, o comunque se non proprio la creazione, l'influenza di macchinazione di questa coscienza che stava nascendo da parte di CIA, Servizi Segreti, NSA, sempre i soliti nomi, anche qui lo collegava all'MK Ultra. Cioè operazioni di lavaggio del cervello che vengono fatte innanzitutto a delle persone singole, che tra l'altro spesso sono orfani come in True Detective, perché sono figli illegittimi di militari spesso, che poi vengono in qualche modo inseriti in questi riti, in questi set, in questi gruppi, però poi tramite questi individui lo scopo è una manipolazione più ampia di gruppi di persone, che appunto pendendo dalle labbra di questi singoli, che appunto si ergono a guru, lavano il cervello a tutti gli altri come gli è stato lavato a loro tramite queste tecniche di manipolazione. In True Detective vediamo qualcosa di molto simile, perché Childress, che viene considerato superficialmente uno dei massimi colpevoli e massimi assassini della set, in realtà noi scopriamo tra le righe da alcune interviste che è figlio illegittimo del reverendo Tartolo, anzi del padre del reverendo Tartolo, se non ricordo male, e quindi anche qui c'è tutto questo discorso dei figli illegittimi che in qualche modo vengono tirati in mezzo in questa set vengono usati come Manchurian Candidate, cioè come coloro che materialmente compiono gli omicidi, capito? Quindi quelli che stanno veramente in alto non si sporcano le mani nell'atto sacrificale, ma in realtà è solo loro che comandano da dietro le quinze. Ma infatti questo è il presupposto dei misteri, degli enigmi che sono rimasti irrisolti nelle tre sette che tu citi, nei figli di Sam, nel, possiamo anche dirlo, insomma, nel caso del mostro di Firenze, che ci sono dei lati oscuri dove, che non sono stati approfonditi, che sembra, no, che portassero verso proprio un'elite che manipolava... C'era dentro il medico svizzero, tra l'altro, c'era dentro gente americana e anche lì, molto sospetta la cosa e sembrava un copycat case di quello del figlio di Sam, tra l'altro, con le coppiette e tutto quanto. Ma anche la vicenda di Charles Manson dei lati oscuri proprio per quelle implicazioni con il mondo di Hollywood e dello spettacolo, perché lui si scopre, insomma, se uno legge, ci sono delle richieste giornalistiche molto interessanti, che sono state pubblicate anche in Italia, scopre che in realtà, insomma, lui non era, cioè, era uno abbastanza introdotto nel mondo dello spettacolo e partecipava a festivi, cioè era uno anche ben voluto inizialmente, non era, come dire, questo, questo emarginato, questo leader emarginato che con la sua famiglia, no, che con la famiglia stava lontano dei riflettoni, in realtà era abbastanza integrato e anche lì, insomma, non hanno scoperto tutto quello che c'era dietro. Anzi, c'è una inchiesta interessante che sostiene che in realtà, insomma, Charles Manson non fosse neanche il responsabile, no, il leader che aveva mandato i suoi adetti a commettere quegli omicidi, ma che poi ritrovandosi all'interno di questo, diciamo, questo vortice, ha, come dire, accettato questa, no, questa, questa colpa che andamola così per poi cavalcarci sopra, perché in realtà è diventato una sorta di scelta. Secondo me nel caso di Charles Manson è importante sottolineare non tanto se la colpa vera, se il mandante sia stato Manson, ma vedere tutto il quadro completo, cioè è collegato a Polanski, chiaramente, no, come abbiamo già sottolineato. Polanski nel 68 fa uscire questo film, Rosemary's Baby, in cui si parla di, per farla in soldoni, di un attore di Hollywood che non riesce a sfondare e si accorda con una misteriosa setta di satanisti che vivono nel stesso palazzo suo e di sua moglie per mettere incinta la moglie col figlio del demonio e improvvisamente a lui vengono tutti gli onori, le parti cinematografiche di Hollywood che sperava di avere. E questo si collega in maniera molto netta al fatto che l'anno dopo dall'uscita del film è stata uccisa Sharon Tate incinta per di più, la moglie di Polanski incinta. Ora io penso che qui sia stato come se lui avesse sorpassato una soglia che non doveva sorpassare, parlando di questi argomenti in un film in maniera così netta. E tra l'altro ci sono un sacco di rimandi esoterici e storici proprio di cronaca perché l'edificio in cui si svolge Rosemary's Baby è lo stesso hotel davanti a cui anni dopo vengono ucciso John Lennon con un colpo di pistola da tale Mark Chapman che tra l'altro era anche lui stata vittima di MK Ultra. E quindi ritorniamo al discorso del lavaggio del cervello. O ancora si potrebbe estendere il discorso anche ai suoi diciati di Polanski che tra l'altro morì ancora prima di consegnare la pizza completa del film con i tagli giusti eccetera. E anche lì secondo me, io faccio una breve menzione nel libro a questo fatto, i due protagonisti che lui volle, Tom Cruise e Nicole Kidman, secondo me non sono scelti a caso perché Tom Cruise come sappiamo è uno dei massimi esponenti di Scientology che è una setta molto particolare collegata a Ron Hubbard che era amico intimo di Alessar Crowley, di Jack Parson, di altri occultisti di quel periodo e che presenta anche dei misteri anche lì galattici, loro parlano di alieni, di una potenza aliena che 75 milioni di anni fa incarcerò l'essere umano in questi guci, una cosa molto gnostica se vogliamo, però adattata alla fantascienza di oggi. E la stessa Nicole Kidman, anche se questa non è una notizia confermata perché è uscita solo su alcune testate online, ovviamente non è uscita sul New York Times, su robe del genere, ma pare che il padre di Nicole Kidman appena prima di morire, tra l'altro in una situazione molto molto particolare, in un incidente aereo dall'Australia all'Indonesia, se non ricordo male questo aereo precipitò, era stato indagato appunto appena poche settimane prima per abusi di tipo pedofilo in questa setta, con fraternità di professionisti ad alto livello, perché tra l'altro il padre della Kidman era chirurgo e aveva a che fare spesso con ospedali di bambini orfani, sempre lì torniamo insomma, e tra l'altro qualcuno ricorderà che in Eyes Wide Shut il personaggio che interpreta Sidney Pollack è proprio un chirurgo, è un medico, come il padre di Nicole Kidman e quindi c'è questa doppia lettura e c'è questa frase che dice Nicole Kidman nel film, nessun sogno è mai solo un sogno che secondo me fa, non lo so se Kubrick l'ha fatto apposta a mettergli questa frase in bocca quasi a sottolineare come a volte i piani degli attori e dei registi e dei personaggi che interpretano o che creano si mischiano e questo evidentemente a volte dà un po' fastidio perché ci sono dei rimandi troppo chiari, ecco che qualcuno nell'establishment di Hollywood vorrebbe invece tenere all'oscuro. Questa secondo me è la ragione per cui Pizzolatto non ha mai parlato apertamente di questi lati connessi appunto alla satanicriti o alla biusis sette nelle interviste. Si limita a citare Ligotti, a fare un discorso un po' sulla filosofia dell'esistenza, sul pessimismo cosmico, però è chiaro che questi elementi sono lì tra le pieghe della stagione, che tutta la vicenda si svolge in base a questi eventi. Sì, aspetta che guardo se ci sono altri commenti, vediamo, ti salutano. Francesca Oltremondo dice la Louisiana è già di per sé terra di confine, come un'immensa palude, così come terra di confine e anche l'Alaska della stagione 4. Eh sì, dai, l'hai vista la stagione 4? Sì, sì, assolutamente. Se vuoi passano due parole anche su quella, infatti. Cosa ne pensi? Allora, sinceramente ho dei sentimenti, delle sensazioni contrastanti. Ti spiego subito perché. Tra l'altro, tra parentesi, pure Pizzolatto, come se Praia si è preso la licenza di critica verso certi elementi della quarta stagione. Secondo me partiva benino, mi interessava molto il discorso più sovranaturale che nelle altre stagioni non c'è, cioè c'è solo nella prima in maniera appunto occulta, bisogna studiarsela per bene. Nella quarta stagione ci sono degli elementi invece sovranaturali che però purtroppo nell'ultima puntata sono andati un po' a ramengo, anche se non viene esplicitato veramente se quelli della sala sono morti in quel modo perché dicono questa è una storia, prendila come vera o finta, fai te, però noi ti raccontiamo questa storia. E vabbè, lì è molto strano effettivamente pensare che un gruppo di persone sia entrato, abbia fatto quel casino, nessuno si è accorto di nulla. Quindi in realtà l'elemento sovranaturale potrebbe anche rimanere in realtà. però questa scelta di trovare una soluzione logica e di esplicitare in quel modo proprio la fine della stagione assolutamente secondo me taglia le gambe a tutto quel complesso mitico, simbolico, sovranaturale che era anche stato creato abbastanza bene, ti dirò, perché alcune scene e alcuni rimandi a questo mondo di sotto, mondo dei morti, che poi sarebbe l'oceano ghiacciato al di sotto dei ghiacci. Quindi c'è molto simbolismo anche qui, la spirale che ritorna, questa entità che viene chiamata lei, che è sempre viva, era viva prima di noi, era viva prima che arrivassero i coloni americani, era viva ancora prima che venissero le tribù del subartico. Quindi ci sono tutti questi rimandi, però alla fine si rimane lì con un pugno di mosche perché si dice, ma quindi chi era questa entità? Io nella mia conoscenza del folclore e della religione di quei popoli che seguivano una via religiosa sciamanica, penso che fosse la cosiddetta signora degli animali marini, la cosiddetta Sedna degli Inuit, che era questa divinità femminile che si pensava vivesse nelle acque sotterranee, quindi nelle acque abissali e che aveva questo ruolo di guardiana degli equilibri della natura e cosmici e quindi ci starebbe. Questi vengono lì, fondano la miniera, fanno il cazzo che vogliono e lei giustamente li ammazza, giustamente. Però ha anche questa funzione di psicopompa che porta dei personaggi che hanno un collegamento con lei e li fa morire in pace, come per esempio la ragazzina con i capelli blu, scusami non mi ricordo il nome, che proprio si denuda, che è un gesto rituale, sciamanico, e si avventura in questi ghiacci per morire in pace perché lei è assediata da queste visioni, pensieri oscuri. E poi è quello che sembra che faccia anche nell'ultima puntata la Navarro, la detective Navarro, perché anche lei c'è una scena che si inoltra nei ghiacci, però poi non si capisce in realtà se è andata alle Hawaii, se è andata dove era nel Nevada, non mi ricordo, o se appunto si lascia andare nei ghiacci come ha fatto la sorella, mi sembra che fosse. Però ecco, sì, insomma ci sono molti rimandi simbolici anche nelle stesse parole, tsalal per esempio, un termine ebraico che si rifà alla Kabbala se non ricordo male, il fatto dell'arancia che compare dal nulla, anche quello ci sarebbe da riflettere, però secondo me ha ragione pizzolato a criticare il fatto che questi elementi spesso vengono buttati lì quasi a creare delle suggestioni per ricollegarlo alla prima stagione. Questa è un'altra particolarità, è come se le due stagioni intermedie che hanno fatto meno successo venissero proprio bypassate. Oppure si nomina il padre di Rust Cole addirittura perché Rust nella prima stagione diceva che il padre era un survivalista che è morto in Alaska di cancro e troviamo il personaggio, quello che appare nella prima puntata della nuova stagione che ritorna dal regno dei morti praticamente, con una scena bellissima che cita il Rust Cole dell'ultima scena, quei cappelli lunghi, morente. E quindi sì, se c'erano alcuni rimandi che potevano farmi sperare, in realtà secondo me era già epizzolato a vedere un po' la cosa come una paraculaggine per far sperare i fan della prima stagione che anche qui ci fosse qualcosa di esoterico. Anche se però bisogna sottolineare che questa è la prima stagione che a differenza delle altre tre non ha dei rimandi a queste sette, questi abusi rituali, facci caso, non c'è in questa stagione. Ovviamente si parla dell'omicidio di questa ragazza nativa, però la cosa rimane a livello di interessi economici sulla miniera, proteste da parte della tribù per questa miniera, non si va mai nei rituali, nelle sette occulte eccetera. E questo secondo me è uno dei motivi per cui la sceneggiatura della serie è stata data a questa Issa Lopez, cioè tu richiamati agli elementi delle altre serie, però quello lascerò stare. Secondo me sotto sotto c'è stata questa scelta da parte della produzione. È probabile, forse non hanno avuto coraggio, diciamo il coraggio di proseguire verso quella linea. È probabile, è probabile. Non si può escludere anche una influenza, nel senso una scelta dettata da qualcuno che gli ha detto non è più. Manteniamo l'evento sovranaturale ma puntiamoci su l'ecologia che magari ecco è un'ecologia. Esatto, assolutamente. Sì, sì, è probabile, è probabile. Marco, abbiamo superato l'ora, è volata. È volata, decisamente. Allora guardo se c'è qualcos'altro. Guardo se c'è qualcos'altro. direi. Allora, Francesca, sempre oltre il mondo, dice come il criminale Seville, non so se si pronuncia così, comunque scrivelo. Sì, mi scrive, sì. Stava l'elite britannica. Non lo conosco. Esattamente. Esattamente, dovessi informarti perché era uno dei nomi di punta della BBC. È come se noi dicessimo qua in Italia Mike Buongiorno, per dirti. Era un nome veramente addirittura eletto baronetto, nominato baronetto dalla regina d'Inghilterra. E lui praticamente aveva fondato, è una cosa molto simile tra l'altro True Detective, aveva fondato una serie di ospedali per orfani in cui lui pescava insomma gente da bambini, poverini da abusare e tutto quanto è uscito dopo la sua morte. Cioè tutti in realtà sapevano, molte persone sapevano anche nell'ambiente della BBC, però c'è stato sempre una cappa di fumo a non divulgare questa situazione. Poi quando è morto qualche anno fa i bambini hanno iniziato a parlare, molti bambini, e poi hanno iniziato a parlare anche qualcuno di chi lavorava nella BBC con Jimmy Sevilla, ha detto sì, lo sapevamo tutti che lui aveva questo vizietto. È sempre una questione come a Hollywood di far passare queste cose come una preferenza sessuale, una preferenza sentimentale. Anche in Hollywood è pieno di questi casi, di registi o produttori che hanno abusato. Ovviamente è famoso il caso Wednesday, Me Too, delle donne eccetera, ma ci sono anche molti casi di bambini che sono stati abusati fin da molto giovani e con la promessa che poi avrebbero recitato in grandi film, avrebbero fatto dei soldi, avrebbero fatto la fama, addirittura anche uno degli attori di Harry Potter, adesso non mi ricordo quale, ma i casi sono tanti, sono tanti. Io di recente ho scoperto addirittura, senti questo proprio due minuti su questa cosa, un regista americano che è famoso per aver fatto i film Jeepers Creepers, forse saprai e si è scoperto che lui in realtà fin dall'inizio della sua carriera a Hollywood aveva questo modus operandi, lui i bambini che scritturava per fare i suoi film, per recitare nei suoi film venivano costantemente abusati e addirittura quando uscì questa storia si scoprì che a pagare la cauzione e a dargli ancora fiducia nel mondo di Hollywood fu Coppola, a me questa cosa mi ha sconvolto. Francis Ford Coppola, cioè uno dei personaggi più influenti della Hollywood che rischia la faccia per difendere, tirare fuori da questa situazione assolutamente disgustosa un regista in realtà da nulla perché era appena esordiente. Se lì Coppola si è mosso, io credo che il motivo non sia solo perché ammirava quel regista che tra l'altro al tempo aveva fatto solo un filmaccio di serie B, penso che ci sia qualcosa dietro che riguarda nomi molto importanti. Sì, perché spesso questi casi quando emergono sono circoscritti alla persona che viene incolpata e dove trovano le prove. Si ferma lì generalmente, non si va... Esattamente quello che succede in True Detective, se ci fai caso, nella prima stagione in cui questo personaggio viene uscito e gli dicono ok, il caso è chiuso, io mi cedilo a fatti lui, ma in realtà, come dice Collo, non abbiamo preso gli altri che contavano veramente. Quindi c'è questo elemento sicuramente esiste anche nella vita reale, secondo me. Sì, sì, probabilmente è così. Guarda Marco, allora c'è ancora un sacco di gente collegata, però io invito davvero le persone a leggere questo, di guardare la serie e di leggere il tuo testo che è molto interessante, dà tantissimi spunti per ulteriori approfondimenti sia nel mondo della letteratura, nel mondo dell'esoterismo e nel cinema e anche nella cronaca. Quindi io lo consiglio tantissimo. Aggiungo anche che, non so, anche qui mettiamolo come un caso, che proprio a marzo usciranno delle nuove edizioni di altre case editrici che ripubblicheranno, immagino con nuove traduzioni, sia una raccolta di racconti di Ambrose Breeze, ma anche il Re in giallo e anche il Diopan. Usciranno delle nuove, ma proprio imminenti. Quindi io penso che comprerò tutti e tre i testi e poi dopo li leggerò perché questo argomento non si esaurisce di sicuro con True Detective. Penso che chissà, potrebbe anche ritornare fuori in un'altra forma, magari nel cinema, magari in una nuova forma letteraria. Vediamo perché ho come l'impressione che il Re in giallo e Carcosa abbiano ancora delle cose da dire, cioè che ci sia questo filo giallo che non credo si interrompa. Che dici? Beh, lo spero perché il Re in giallo e Carcosa sono stati, come tu hai detto prima, riscoperti e portati al grande pubblico dopo molti decenni. È chiaro che nei vari decenni ci sono stati, io ne nomino nei libri, molti scrittori del fantastico, però molto di nicchia che hanno ripreso questi concetti, questo personaggio del Re in giallo, questo ultramondo di Carcosa. con True Detective è stato portato a un pubblico tale che appunto nell'edizione che ho io di Robert Chambers del Re giallo, c'è proprio scritto in copertina il libro che ha ispirato la famosa serie TV True Detective, che poi non è neanche vero in realtà, però l'hanno voluto mettere in copertina perché hanno capito che grazie a True Detective questo tema è ritornato di moda, insomma di moda. ha potuto raggiungere un pubblico che non aveva mai raggiunto prima, perché parliamoci chiaro anche Ambrose Bierce e Chambers, ma anche lo stesso Lovecraft e Macken, sono sempre rimasti grandissimi scrittori, però di nicchia comunque, non è che hanno mai sfondato, hanno mai fatto un successo planetario. E lo stesso Thomas Ligotti tra l'altro. True Detective in qualche modo è riuscito a far diventare di tendenza alcuni concetti e alcuni rimandi esoterici e la cosa secondo me è veramente ammirevole perché non l'ha impizzolato la prima stagione, non è che si è svenduto, non è che ha fatto un prodotto commerciale per sfruttare questi temi esoterici, anzi li ha mantenuti sullo spondo diciamo tra le pieghe della serie, però in realtà tutto il resto della serie senza questi concetti di carcose del re in giallo non si potrebbe spiegare o comunque non si potrebbe spiegare gli elementi appunto più occulti, in cui bisogna indagare un po' di più ecco. Sì, è vero, è vero. Guarda, io direi che ci salutiamo con questa ultima riflessione. Marco, io ti invito a tornare perché potremo parlare anche di altri temi e poi magari ci mettiamo d'accordo e vediamo che cosa ci aspetterà il futuro se eventualmente ne torneremo a parlare qualora dovesse uscire qualcos'altro che cita sia il re in giallo che il carcosa. Vedremo. Molto volentieri. Grazie di cuore, è stata una bellissima chiacchierata e poi insomma ci risentiamo e ringrazio tutte le persone che sono rimaste collegate. Ringrazio anche io, ringrazio anche te chiaramente per l'invito e per la bella chiacchierata e ci sentiamo, vediamo di organizzare qualcos'altro. Magari su Maken, appunto io ho scritto molto su Arthur Maken, quindi se vuoi parlare del grande Diopan, di altri suoi racconti e anche qui come avrai detto in carcosa svelata ci sono dei punti di contatto abbastanza importanti. Anche questo è da... dobbiamo parlarne. E ti dicono, ma culotti sempre in forma, sì. È vero. Sì che lo dice. È vero, è vero. Alla triste 71 dice, bravi, una bella diretta sui temi complicati ma resi accessibili. Grazie. Questo è importante. Era un po' quello che speravo accadesse. Ecco, bene. Francesca dice grazie, ma grazie a voi davvero. E ricordo che questa diretta automaticamente andrà in registrazione. Io adesso la metto disponibile, qualche minuto e sarà disponibile per tutti, per chi la vuole rivedere o per chi si è perso magari l'inizio e per chi non è riuscito a vederla per intero. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a tutti. Se avete domande comunque, Marco, lo trovate qua su Instagram. Potete lasciare dei commenti sotto alla diretta o scrivere a me e poi recapito io le cose a Marco. Ecco, se avete altre domande anche dopo la lettura possiamo parlarne nuovamente. Ecco, va bene? Grazie ancora. Un saluto a tutti. Buona serata. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.